allora ciao a tutti vi faccio vedere un video integrale di un richiamo molto invasivo ma che è micidiale quando vedete nulla che non c'è nulla all'orizzonte acqua 6 7 metri visibilità massima è un richiamo che può risolvere può risolvere la giornata la cattura scendo a posto non ancora toccare comincio a picchiare richiamo nel minatore si sente picchiare toc toc picchio di continuo e nulla come si vede appare i saraghi un pizzuto che viene a schiantarsi sull'asta continuo sempre a picchiare bella scena un bel richiamo due parole per spiegarlo un attimo ci vogliono allora quando si fa un richiamo del genere non ci possiamo agguantare sicché bisogna puntellarsi con le gambe il bacino la spalla quello che vi pare perché una mano agguanta il fucile l'altra della guanta al sasso e picchiare su un altro sasso perché richiamo è quello lì minatore quello se non si può fare questo tipo d'azione non ci provate nemmeno perdete tempo e basta meglio struscia pollice però bisogna essere tutte e due le mani libere bisogna avere tutte e due le mani libere vai ciao a tutti un bel richiamo il problema è gestirlo